e bella a tutti ragazzi eccoci con questo nuovo video su gta 5 online oggi siamo in una nuova gara parkour che è stata creata da diego moz no non mi ha fatto neanche scegliere a macchina vabbè a zentorno credo che era bloccata però rossa non mi piace vabbè dai fa niente andiamo a vedere un po questa gherita di diego madre mia eccolo qua diego alla 3 2 1 dux è partito madre di dia sui come trollate adesso in attività con il suino portmuz proviamo a ganargli la primera llegano 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 o vegano non lo so sto di stronzate comunque siamo in primera e lo uscio dentro ok c'è preso qua c'è un equilibrio di tubi però qua è buggato che c'è al suino ha detto sui non mi fa sbaglio via 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 allora bisogna entrarci perfetti girate sui anche lì credo di saltar perfetti è entrato? non vedo nada se si è entrato andiamo 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 allora qua abbiamo un bel giro giro tondo siamo belli i primeri stiamo andando a 2000 stiamo andando non ve lo voglio di ma ok mamma mia un minuto siamo già qua che sui di pro piano qua queste parti qua trollano infatti perché queste parti qua regà la macchina prende un boost strano guarda andiamo un po più piano guarda tanto l'alzo intorno ce l'ha fatta eh l'alzo intorno regà è un'auto vecchia perché c'è già da gta qualche roba è ah c'è un sacco c'è già da gta appena uscita quindi è una delle prime auto allora andiamo piano qua c'è una bella miniatura qui che mi piace trollato okay da un po' più veloce una bella miniatura madre mia ha già arrivato il suido sui 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 si sui di megana veloce che è sui di megana eh? è suino dietro? si Qua entro, entra, però questa parte è diventata epica ragazzi, questa con la casetta. Entro, entro, sui, madre mia, ce l'abbiamo fatta. C'è l'ultima, sui, 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 perfetto, allora qua cosa abbiamo, one ride, speriamo che non c'è un turbo, se no, mi trovo, ok, ora abbiamo degli equilibri che a me stanno un po' ansipatici. Questi gli equilibri mi stanno... ho detto che mi stanno antipatici, questa è una veloce che c'è il sonino di venta. C'è il sonino degli equilibri che è veloce... Devo fare il possibile... lasco, non c'è te trovi lì madre mia. oh piano sto andando a 2.000 oh sui se cado ok check preso ora cosa abbiamo qua drive slow ma anche no rega mi sto trovando in delle parti easy troppo easy adesso vi do sui allora piano ok dai zentorno non fare scherzi questa sera ok un altro check preso e qua cosa abbiamo un equilibrio stravagante eh questi equilibri mi danno un po' di preoccupazione però questo no ok tranquilli qua ci giriamo così mica abbiamo rischiato se cadevo madre di dio ok ci siamo sta porta la distruggo sbatte ogni volta allora qua abbiamo easy 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 e ancora bello usci ok abbiamo il check un altro mezzo equilibrio ma questo è facile ok madre mia stiamo andando a 2.000 stiamo andando a 2.000 raga vedo il traguarda no qua c'è un'altra parte più del traguarda ah sta porta hashtag la porta di romanaccio che sbatte sono trollata oh a guardare la porta no la porta va trollata non è giusto grande grande si merita il sui questa vittoria mi sono trollato per colpa della porta oh sui oh sui oh che avete trolli 5 minuti di gare vita bella bella però la gare vita bella gare vita di diego moz andiamo giù oh sui seconda posizione per noi 6 minuti di per curitos la porta mi ha trollato che dite la butto giù sta porta io la butterei giù comunque raga spero che questo video vi sia piaciuto lasciate tanti like iscrivetevi al canale attivate soprattutto la campanellina che è importante così non mi perdete neanche un video e noi raga come sempre ci becchiamo al prossimo video bella raga ciao